Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ma che cazzo? Mano sinistro rosso, ok? Ha preso parecchie curiosità Ok ragazzi, vabbè ma andremo a vederlo Comunque ragazzi mi dovete fare la traduzione, ve lo sapete Io conosco l'inglese ma non a tal punto da capire bene tutto Quindi se c'è qualcosa che mi serve aiuto, aiutatemi, fatemi una traduzione per capire Vabbè aiutatevi anche con il gaming, va bene, mod, eccetera, eccetera Ok? Allora, senti L'ho sentita tipo 10 volte, quindi la voglio risentire anche in live È bellissima perché proviene dal trend di TikTok, quello lì che tu ti metti la bottiglia d'acqua oppure il latte e parli Cioè, e canti la canzone mentre ti va l'acqua o il latte in gola È troppo bella quella canzone Rika, ma porca puttana Ve la metto abbassata la cama così la vedete Oh my god, oh my god Ciao Ciao Ciao